E' la vecchia Tokyo rispetto alla nuova Tokyo, la vecchia Tokyo è antica, come direbbe la nuova Tokyo è moderna. Sotto basamento è meglio che fai tu a, che se no da far guida facciamo una tarantella, una tarantella bella, rimane sera alle otto a Sirion. C'è il grattacieli, sembra di stare a New York, come in tutte le città, le metropoli del mondo. La vecchia Tokyo ha il sapore della vecchia Tokyo, tu l'hai sentito il sapore della vecchia Tokyo? Sì, l'ho sentito, stamattina quando hai preso il caffè. Quando hai preso il caffè hai sentito il sapore della vecchia Tokyo. Era proprio la vecchia. C'ha quel sapore di fungo il caffè, come se non possiede. Gira la chiave. Non ti distrarre. Vai piano. Oh piano arbore. Ehi, la curva. C'è la curva. Vai piano, non fare come appoggia. E allora, come per incanto, tacque tutto quanto, sai com'è finito. Tremante. Non ti distrarre. Chiuso dentro il piano, lentamente usci. I giapponesi sono pazzi a dare in mano a te la guida di questo mezzo fantascientifico, tecnologico. Vedi come vanno bene quelli dall'altra parte. Tu devi correre sempre alla stazione. Guarda che la manchi eh. Ti puoi fermare, qui non c'è la stazione. Non mi fermo, ma devo salutare i marinai, sennò si offendono. L'ho parcheggiato qua. Continua dritto, qui non ti puoi fermare. Guarda che ci fanno la multa. E allora, come per incanto, tacque tutto quanto, sai com'è finito. Tremante, un pianista nano, chiuso dentro il piano. Umba pericolosa a destra. Attenzione. Vai piano. Guarda che ce l'hai scesa. Umba. Un pedale che non funziona. Come l'organo hai in mano che ce l'hai scesa. E allora, come per incanto, tacque tutto quanto, sai com'è finito. Tremante. L'ha fermata, l'ha fermata. L'ha fermata adesso. C'è l'hai il tasto? Sì, sì. Apri le porte. No, aspetta. Fai fermare e poi apri le porte. Ora apri le porte, vai. Apri. Ecco, stanno salendo. Ma guarda, falli salire bene perché sennò... Non ne faccio più. Non ne faccio più. Non ne faccio. Basta. Sono i capolavori del cinema neorealista giapponese, capito? Senti tu che non capisci niente. Questo è il cinema neorealista giapponese. Questo è Lino Banfi. In versione giapponese. Questo è Lino, il medico in famiglia, è una delle cose che c'è. Che diavolo di un uomo. È insospettabile. Riesce a fare tutti. L'angelo, le cose. E' venuto qua prima che si truccasse gli occhi. Poi adesso non si tratta di giocchi di famiglia un po'. Quella povera Lucia se sapesse che suo figlio, suo marito è finito sulle bancarelle giapponese. La filosofia da base giapponese dice non è bello quello che è bello, ma è bello quello che è utile. Se è una cosa utile, allora è bello. Se non è utile, è una schifizza. Il kimono. Il kimono è una cosa. Eccoli qua i kimono. Il kimono è quello là. Il kimono pole è invece la bacchetta di vetro. E questi giapponesi, io l'ho detto, che i giapponesi pur di vendicarsi degli occidentali, ne inventano di tutti coloro. Uno si compra il kimono e crede di andare a casa con il kimono e cose, e invece trova che è un kimono pole. Un bacchetto. È una bacchetta. Sottobasamento. Finito? Quanto è l'Omega? Questo? Questo? Quanto è? Quanto è l'Omega? Quanto è l'Omega? Quanto è l'Omega? Quanto è l'Omega? 15.000 yen. 15.000 yen? Che significa? 250.000 yen. 250.000 yen? A cercare di comprare orologi non si capisce che se ne fanno. Orologio oggi ne basta uno solo perché sono tutti precisi e non si rompono mai. Ai tempi miei, quando io ero ragazzo, chi aveva l'orologio era una persona eccezionale ed era bellissimo avere l'orologio e averlo sul polso quando gli altri non l'avevano perché ti chiedevano che ora era per strada. Scusi, sa che ora è? Oggi non te lo chiede più nessuno. Però questo è vietato portarlo in Italia e a Napoli in particolare perché porta male le penne, penne e pellecchie portano male a Napoli. Le penne sono le penne degli uccelli eccetera, le pellecchie è meglio non andare, però la pellecchia a Napoli è sia quella che avanza per esempio il pomodoro, si esce la pellecchia perché si vitalizza e sia quella che rimane della nostra gioventù quando andiamo molto avanti negli anni. Allora là rimane una pellecchia e porta male quindi penne e pellecchie. Allora bisogna trovare un kimono non di penne e pellecchie perché anche qua troppe penne. Questo è un samurai, cioè un personaggio che io non farei mai. Vi ricordo che un giorno 40 samurai si uccisero contemporaneamente solo per una questione di principio. Fecero tutti i karakiri. Io col cavolo che avrei fatto karakiri. Qual è il pensiero fondamentale del preosofo Pukuyama? Pukuyama dice una cosa straordinaria, il desiderio più grande di un uomo è quello di essere riconosciuto. Se uno ti incontra e non ti saluta è come se dicesse non sei nessuno perché non ti riconosco. Questo è senza penne però è troppo dorato, è troppo megalomani, questo è un po' troppo dorato. Questo è pieno di penne, questo però è bello, secondo me questo messo in casa quando si diceva qualcuno per mettermi in difficoltà subito, per far capire la distanza che corre tra te e l'interlocutore, questo è perfetto. Quasi quasi me lo compro e adesso lo stacco da qua. È un po' lungo? È un po' troppo lungo. Mi sta lungo, purtroppo non lo posso prendere. Qua non fanno come le preta portè che ti tagliano su misù e così. E questo è per un giapponese gigante. Vabbè, allora vanno in giro. C'è una grande di Venezia. Non vedi che si mette molto al rialto? Passate con le tasche in giro. Praticamente per avere degli inchini basta mettersi, ecco, basta mettersi in un ponte come questo e tutti si inchinano per non ostacolare la registrazione delle centocento miliardi di macchinette, delle camerine che tutti usano. Quindi si abbassano tutti, fanno degli inchini. Bisogna lavorare molto in Italia perché la gente si inchini. Come pensi dei fiori in metropolitana, scusami? Beh, sono simili ai glisantemi. Sì. Non è che è purissima plastica. Purissima plastica giapponese, nipponica. A me piace perché tutti si inchinano per non essere inquadrati dalla telecamera. Chi non si inchina gli do una guidata in testa. Guidata significa che è la guida di Tokyo. Quelli che passano non si inchinano, ho promesso che gli do perché il giapponese è educato. Quelli che non si inchinano li prendo a guidata in testa. Loro sono un pochino, come dire, un pochino maschilisti. Non so se hai notato che la donna ogni volta che incontra l'uomo si sprofonda in un inchino. Perché l'uomo è sempre considerato un dio rispetto alla donna.